Ladri arrestati durante un furto sono stati sorpresi all'interno di una villetta. Fiera campionaria di Avezzano, i numeri dell'edizione 2016 in conferenza stampa. Dental scan all'ospedale di Subona, gioiello digitale con minori radiazioni. Seminario sui finanziamenti alle imprese, le opportunità messe a disposizione dalla Regione Abruzzo. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Iniziamo con la cronaca. Poco dopo le 4 di questa mattina, un cittadino ha segnalato al numero di emergenza 113 di aver notato delle luci e sentito dei rumori provenienti da una villa poco distante da casa sua, di proprietà di persone residenti fuori regione nel comune di Introdacqua. Gli operatori della squadra volante del commissariato di Subona, intervenuti immediatamente sul posto, hanno subito notato una luce intermittente provenire dall'interno dell'abitazione ed un'autovettura parcheggiata in prossimità della villa con le chiavi inserite nel cruscotto, risultato essere di proprietà del padre di un noto pregiudicato sul monese. A quel punto i due operatori si sono avvicinati al fabbricato ed hanno constatato che una finestra sul piano del garage ed una sul piano superiore erano state forzate ed aperte. Certi che i ladri fossero ancora all'interno, sono entrati approfittando di uno degli infissi aperti, constatando che la casa era stata messa completamente a soquadro. Nel frattempo i ladri, accortesi che qualcuno era entrato nell'abitazione, si erano nascosti sotto due letti. La mossa è però risultata inutile perché i due agenti li hanno trovati poco dopo, traendoli in arresto. Si tratta di GB di 41 anni e LB di 26, entrambi pluripregiudicati, avevano con loro una torcia ed un cacciavite, mentre in prossimità delle finestre forzate sono stati rinvenuti un grosso martello ed una mazzetta da cantiere utilizzati per lo scasso. All'interno della macchina, in uso agli arrestati, sottoposta per acquisizione, è stato rinvenuto altro materiale utile allo scasso, una bomboletta di gas butano, guanti copricapi utilizzabili per occultare la propria identità ed uno sfollaggente di tipo telescopico. L'autovettura ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione del pubblico ministero, dottor Stefano Iafolla, i due sono stati condotti presso la casa di reclusione di Sulmona. Ancora cronaca, ma ci spostiamo dal commissarato di Sulmona a quello di Avezzano. Ieri sera, in una località nei pressi di Avezzano, la Polizia di Stato ha arrestato CD avezzanese di 43 anni con pregiudizi di polizia e pergressa condanna per stupefacenti. Gli operatori del commissario di pubblica sicurezza di Avezzano, impegnati in una operazione di polizia mirata alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico e dallo spaccio di sostanze stupefacenti, vedendo transitare GD alla guida della propria autovettura, hanno proceduto al suo fermo per effettuare le opportune verifiche finalizzate a riscontrare se lo stesso potesse occultare della sostanza stupefacente all'interno del mezzo su cui naturalmente viaggiava. Durante operazioni di polizia all'interno del bagagliaio è stato rinvenuto un involucro di cellofan contenente sostanze stupefacenti, risultata positiva al narcotest per cocaina per un peso totale di circa 500 grammi. Inoltre, a seguito della perquisizione personale, è stata rinvenuta la somma di 300 euro in banconote di vario taglio. Le stesse operazioni sono state poi estese al suo domicilio, alla presenza del legale di fiducia. Al termine dell'operazione di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Avezzano, il responsabile è stato associato alla locale Casa Circo da Reale per essere posto a disposizione del locale tribunale per la convalida dell'arresto ed il successivo rito direttissimo. Il processo c'è stato oggi, lo spacciatore è stato beneficiato degli arresti domiciliari. Esprimo solidarietà a Don Giovanni Gatto, parroco di Tempera, frazione dell'Aquia, che è stato minacciato dal clan dei Casalesi per aver resistito alle pressioni di ditte campane che volevano aggiudicarsi i lavori per la ricostruzione della chiesa e che è stato ascoltato a lungo dei Carabinieri, ai quali ha raccontato di temere ora ritorsioni. E' quanto afferma la senatrice Stefania Pezzopane. Il sacerdote, prosegue, che si era ribellato a tentativi di infiltrazione anche nel periodo post-terremoto, ha ricevuto pieno sostegno dall'arcivesco dell'Aquila Giuseppe Petrocchi. Credo che comportamenti come il suo siano esemplari nella lotta contro la criminalità organizzata che tenta continuamente di infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico anche nella nostra regione. Tutte le forze politiche e le istituzioni devono stringersi intorno a figure come Don Giovanni Gatto perché nel contrasto alle mafie l'Unione fa davvero la forza. Don Gatto non è solo e devono saperlo tutti. Il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, CONAPO, interviene sulla vicenda della ristrutturazione della caserma dell'Aquila. In un comunicato afferma, apprendiamo dalle dichiarazioni del provveditore Roberto Linetti dell'ennesimo ritardo che subirà l'avvio dei lavori di ricostruzione della sede dei Vigili del Fuoco dell'Aquila. Come sindacato dei Vigili del Fuoco, più volte avevamo espresso la nostra posizione e suggerito alternative che puntualmente sono state del tutto ignorate. Invitiamo i responsabili che ai vari livelli e nel tempo hanno prodotto questa situazione a venire nella topaia dove ci hanno confinato negli ultimi sette anni e scusarsi con i Vigili del Fuoco. È facile chiamarci gli angeli del terremoto, attacca il segretario provinciale del CONAPO Elio D'Annibale quando fa comodo usare l'immagine dei Vigili del Fuoco, mentre non rileviamo altrettanta solerzia politica quando invece è il momento di far funzionare le cose e dotare i Vigili del Fuoco di una sede di servizio consona alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Intanto i Vigili del Fuoco dell'Aquila continuano a lavorare in quello che resta della sede terremotata in condizioni igieniche e sanitarie inaccettabili nel silenzio assordante dei papaveri. Invitiamo i responsabili di questa barzelletta politica ed istituzionale a venire in caserma a scusarsi con tutti i Vigili del Fuoco Aquilani. Chissà, seppur incapaci a gestire la loro ricostruzione della sede di servizio, magari salveranno la faccia, commenta infine il segretario del CONAPO. E passiamo alla Fiera Campionaria di Avezzano. 150 espositori, 14 eventi, numerose associazioni no profit e serate di gala alla quarta edizione della Fiera Campionaria di Avezzano al via venerdì 22 aprile alle ore 10 al nucleo industriale, area di grande soddisfazione a Palazza di Città dove gli addetti ai lavori della quarta cremesse fioristica intersettoriale, Commercio, Confesercenti e Confartigenato, Amministrazione Comunale, Camere di Commercio, Cooperativa Sociale e L'Orizzonte che ha fatto registrare l'emplare in dispositori, hanno snocciolato numeri di partecipanti, iniziative collaterali di confronto su tematiche ed opportunità del settore, eventi nonché aspettative della tre giorni dal 21 al 24 aprile al centro fioristico di via Newton. Le immagini naturalmente sono riferite alla edizione dello scorso anno. La Fiera Campionaria è un appuntamento atteso, ha dichiarato il Sindaco di Pangrazio, che ogni anno si fa più interessante grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, delle associazioni di categoria e dell'organizzazione. Una occasione imperdibile per il territorio per puntare sul rilancio dell'economia locale, simbolo di una città in movimento che cambia e cresce quotidianamente. E lo fa partendo dal lavoro e dalla valorizzazione delle proprie risorse produttive. Il rinnovato sostegno all'evento da parte dell'amministrazione comunale di Avezzano testimonia ancora una volta che crediamo in questo progetto, tanto che stiamo lavorando in sinergia con la Regione Abruzzo per ottenere l'affidamento dell'ente fiera nell'ottica di definire la realizzazione del centro fieristico marsicano. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'assessore alle fiere Daniela Stati. Fatica, impegno e passione per un evento realizzato in completa sinergia, a cui l'amministrazione di Pangrazio tiene da sempre. In questi giorni ho avuto modo di visitare la struttura in cui stanno prendendo forma i padiglioni, dove gli espositori mostreranno le loro eccellenze. Sono certa che le aspettative dei visitatori verranno ampiamente soddisfatte. La fiera è un orgoglio per la Marsica ed anche quest'anno sarà un trampolino di lancio per molte attività ed un momento che i cittadini non vorranno di certo perdere. Ringrazio tutti gli operatori che ci hanno messo del loro in ogni fase dell'organizzazione ed un grazie speciale a Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa, che sarà presente con due padiglioni, Croce Rossa e Caritas, per ricordare quanta solidarietà, altruismo e partecipazione siano essenziali in ogni contesto. Evidente la soddisfazione del Comitato Magia del Fare, animato da Confcommercio, Confesercente e Confartigenato. Per Roberto Donatelli la quarta edizione della fiera campionale rappresenta un grande traguardo per le associazioni e la città di Avezzano e testimonia quanto l'unità di intenti possa dar vita a sinergie e risultati a vantaggio degli operatori che con le loro attività cercano di portare ricchezza sul territorio. Domenico Venditti ha posto l'accento sul grande lavoro di squadra. È stata dura, ma la voglia di esserci ancora e di stupire è stata più forte. Al fianco dei promotori, sopportati dal braccio operativo alla cooperativa sociale L'Orizzonte, sedeva Maria Teresa Letta, la vicepresidente nazionale della Croce Rossa italiana, che come abbiamo detto sarà ospite della fiera per far conoscere ai marsigani le numerose attività dell'associazione, oltre al servizio ambulanza. Una quantità di radiazioni circa 10 volte inferiore rispetto a quella dell'attacca, ricostruzioni in digitale, in alta definizione, delle ossa mandibolo-macellari ed infine prenotazioni direttamente nel reparto con tempi di attesa di pochi giorni. All'ospedale di Sumona è pronto ad entrare in funzione l'apparecchio dental scan di ultima generazione. Il nuovo gioiello digitale, dopo collaudi e prove, è uscito dai bocchi, ed è già in pista per effettuare esami agli utenti. Garantirà un miglioramento della prestazione, non solo per l'alta risoluzione delle immagini, ma soprattutto per una forte riduzione della quota di radiazioni emessa per effettuare l'esame. Finora, infatti, il test del dental scan, che serve sostanzialmente ad accertare lo spessore e la consistenza delle ossa di mandibolo e macella, venivano effettuate con l'attacca che emette radiazioni in quantità molto superiori. Il nuovo dispositivo digitale è dotato di proprietà tecnologiche avanzate, poiché utilizza, tra l'altro, il sistema Combin. Il nuovo strumento analizza in modo minuzioso, scandagliandole a fette minute le ossa mandibolo-macellari, che poi ne fa una ricostruzione digitale, in modo da fornire un quadro completo e preciso di tutte le caratteristiche del tessuto. Nel linguaggio medico si parla di tre pacchetti con riferimento ai tre segmenti ossei che vengono ricomposti in versione digitale dal macchinario. L'esame dental scan è indispensabile a chi deve fare un impianto alle arcate dentare, lavoro che spetta al dentista di fiducia che per poterlo eseguire ha necessità di essere e di avere a disposizione lo specifico referto. Oltre ai vantaggi elencati, cioè meno radiazione e più tecnologia, gli utenti avranno un'altra agevolazione, quella di poter prenotare la prestazione direttamente al reparto di radiologia, diretto da Rinaldo Mariani, con la possibilità quindi di fare l'accertamento nel giro di pochi giorni. Le cronache raccontano di barconi carichi di migranti in fuga da guerre ed in cerca di una vita migliore. Sono notizie così lontane che non sembrano entrare nella nostra quotidianità, ma per fortuna c'è anche chi nel nostro paese ha trovato accoglienza, pur se tra mille difficoltà ed in una situazione economica tutt'altro che Florida. Ed è proprio la scarsità di risorse economiche che a volte obbligano a fare i conti con i problemi del vivere quotidiano, esattamente come quelli che deve fronteggiare una famiglia iraniana che vive ad Avezzano e che ha bisogno di soldi per far curare il proprio figlioletto di sei anni che ha ricoverato in un ospedale della capitale. A Jihad, questo è il nome del bambino, hanno pensato di dare una mano i responsabili dell'Istituto Don Orione e quelli dell'Associazione Teatrale di Aletale Tre Conche di Avezzano. Per raccogliere un po' di soldi da destinare alla causa, gli attori della compagnia Tre Conche domenica prossima nel salone sottostante alla chiesa dello Spirito Santo porteranno in scena la loro ultima commedia dal titolo Villa Serena, mica tanto. Ed il ricavato verrà devoluto interamente alla famiglia del piccolo Jihad. L'inizio della commedia è previsto per le ore 16 e l'ingresso è ad offerta. I finanziamenti alle imprese e le opportunità che la Regione mette a disposizione nel campo delle politiche attive del lavoro e della formazione. Su questi temi si muove il seminario in programma giovedì 21 aprile dalle 9 alle 13 presso la Olomagna Federico Caffè dell'Università d'Annunzio a Pescara. Organizzato dal Dipartimento di Economia della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche la giornata di studi vuole fare il punto della situazione sul fronte delle politiche di incentivazione avviate dalla Regione Abruzza. L'obiettivo è tracciare un quadro completo degli strumenti a disposizione in vista soprattutto della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Da qui la trattazione dell'aspetto politico con degli interventi dell'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo e del Presidente della Giunta Ragionale Luciano D'Alfonso e degli aspetti tecnici con i contributi delle responsabili del Dipartimento Lavoro Tommaso di Rino e delle responsabili del Servizio Gestione e Monitoraggio del Fondo Sociale Europeo Giuseppe Sciullo. Alla tavola rotonda, moderata dal professore Pier Giorgio Landini, prenderà parte Alessandro Sarra, associato di Economia Applicata all'Università d'Annunzio, Manuel Del Monte, Presidente di Abruzzo Sviluppo e Nicola Basilico, professore a contatto di finanziamenti agevolati alle imprese della Università d'Annunzio. Sabatino Biocca, Presidente dell'Associazione Culturale Caruscino 2004 di Avezzaro, anche in rappresentanza dei residenti, ha inviato una nota di ringraziamento al Sindaco Giovanni Pangrazio e dall'assessore a patrimonio per l'attenzione, la serietà e la solerzia che hanno dimostrato nel dare corso al progetto per la risistemazione di Via Caruscino. Si tratta di un'opera fondamentale, non solo per la frazione, in quanto è diventata un'artena ancora più importante dopo la creazione del nuovo centro commerciale e l'espansione della frazione stessa. Attenzione, solerzia, dimostrate non solo a parole, bensì concretamente, accolte le nostre istanze e abbiamo avuto la piena percezione di una vera e fattiva sinergia che ci auguriamo continui e si rafforzi anche al riguardo dei tanti progetti, sia già avviati che in cantiere. Ringraziamenti doverosi prosegue. Questa è una realizzazione che aspettavamo da ben 35 anni. L'ultima fu eseguita dall'ente Fuscio nel 65 e si comprenderà già solo da questo la valenza per noi dei sforzi messi in atto da lei, signor Sindaco, e dagli amministratori che si sono attivamente prodigati per giungere a questo risultato. L'accoglienza riservata alle nostre richieste, la disponibilità al dialogo e ad attivarsi per venire incontro alle esigenze della nostra frazione sono anch'essi fatti inoppugnabili e di questo, confidando a che resta aperto e vivo, come sempre, il flusso della comunicazione e della collaborazione tra noi ancora ringraziamenti. Nella sala consigliare del Cuneo di Avezzano, il Sindaco Giovanni Pangrazio e l'assessore allo sport Fabrizio Matilli hanno consegnato una medaglia, quale ringraziamento della città di Avezzano, alle due atleti e dai dirigenti della società Donorione che, con la rappresentativa dell'Abruzzo, hanno conseguito il titolo di campione d'Italia di calcio al 5 femminile al torneo della regione 2016. Le ragazze sono Valeria Russo e Roberta Viscogliosi, i dirigenti Davide Giffi, Luca Angelini e Valeria Francescone, presenta anche il dottor Pedro Raschiatore dello staff medico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Sindaco di Pangrazio ha ringraziato atleti e dirigenti della società Donorione, affermando che simili successi sono un motivo di orgoglio per la nostra città e per l'intero Abruzzo. L'assessore Matilli ha ribadito l'interessamento dell'amministrazione comunale in campo sportivo, annunciando che presto si svolgerà a Castello Orsini la tradizionale festa dello sport con la consegna di riconoscimenti ad atleti e dirigenti che si sono distinti nell'anno 2016 nelle varie discipline sportive. Calcio eccellenza, il paterno, pur vincendo nettamente in casa contro la Val di Sangro per 3-0, resta al secondo posto ad un solo punto della Coppolista Vastese, anch'essa vincitrice fuori casa. Domenica prossima è in programma l'ultima giornata di campionato e, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Sia il paterno che la Vastese giocheranno fuori casa. Tre reti anche alla Val di Sangro, ma quella contro i biancazzurri di Giannico rischia di diventare la partita dei rimpianti, perché il punticino di vantaggio che gli aragonesi vantavano prima di questa gara è rimasto tale e, anzi, è diventato ancora più prezioso. Il paterno si congeda quindi dal pubblico amico con una prestazione non eccezionale, ma le circostanze, il caldo e l'avversario di turno, non consentivano di più e allora è inutile stare a cercare il pelo nell'uovo. Un occhio al campo e l'orecchio teso a captare buone notizie che però non sono arrivate. Fa caldo e di voglia di correre non è che ce ne sia poi molta, ma la differenza tecnica di valori in campo è abbastanza evidente e basta poco ai marsicani per mettere le cose in chiaro. È il sesto minuto quando Amore scende sulla sinistra e crossa in mezzo alla ricerca di qualche compagno, ma Trivilino è attento e abbranca in bello stile. Al tredicesimo la palla viaggia da Carosone a Cordischi, che trova spazio ed entra in area per la conclusione, ma il destro non è il suo piede migliore e si vede chiaramente. Passa meno di un minuto e si registra un'azione elaborata da parte del paterno, che porta al tiro Miccichè, ma anche stavolta l'estremo ospite risponde presente, poi Crognale spazza in calcio d'angolo. Al venticinquesimo la gara si infiamma, ad accendere la miccia ci pensa Ciurlia, che batte una punizione che viene raccolta da Catalli sulla linea di fondo. L'invito successivo non viene però raccolto da nessuno dei suoi e subito dopo scatta Fulminio e il contropiede avversario. Il centrocampo e la difesa del paterno sono sbilanciati e Molino percorre parecchi metri, palla al piede, per presentarsi poi in solitudine davanti a Vergari, che sceglie bene il tempo dell'uscita e respinge miracolosamente il destro dell'attaccante a colpo sicuro. Al trentacinquesimo i marsicani passano in vantaggio, Cordischi controlla un pallone sulla riga che delimita l'area di rigore e su di lui entra un po' rudemente Spinelli. Cordischi finisce a terra e l'arbitro non ha dubbi. Fischio immediato e indice puntato sul dischetto del rigore. Inutili tutte le proteste dei sangrini. Catalli tira forte e Trivilino non può farci nulla. Al riposo il paterno va in vantaggio di un gol, ma all'Aragona l'Avastese ne ha già segnati due. Ripresa, un cross di amore dalla linea di fondo viene mancato da Catalli per una questione di centimetri e subito dopo Paris va in campo al posto di Micicchè. Il nuovo entrato si mette subito in luce al ventesimo, quando va via sulla sinistra entra in area e prova a concludere, ma da quella posizione la porta è troppo piccola e Trivilino respinge col corpo. Tre minuti dopo il paterno raddoppia. Paris avanza in becca amore che a sua volta invita alla conclusione Carosone, sinistro d'incontro del numero 9 e palla in fondo al sacco. Gara quindi virtualmente conclusa, ma bisogna giocare ancora parecchi minuti. La Val di Sangro adesso è frastornata e dopo meno di un minuto Carosone ruba palla, avanza e offre a Catalli che evita il portiere e prova a metterla dentro di tacco, senza però riuscirci. Si continua a giocare solo nella metà campo ospite e inevitabile arriva anche il 3-0. Stavolta Paris apre bottega in proprio e dopo aver ricevuto palla va via sulla sinistra alla sua maniera, entra in area e trova lo spiraglio giusto per battere Trivilino per la terza volta. Il resto della partita potrebbe anche non giocarsi perché la Val di Sangro è ormai rassegnata al proprio destino e il paterno fa possesso palla per far trascorrere senza danni i restanti minuti. Il ritmo scade ulteriormente e ad un certo punto sembra di assistere ad una gara del campionato a motori, tanto che il direttore di gara decide opportunamente di non concedere neanche un minuto di recupero. Alla fine del campionato mancano solo 90 minuti, ma adesso il pallino sembra interamente in mano vastese. al paterno non resta che sperare. Ultima in casa per il paterno, 3-0, un successo netto, tutto sommato facile, però il basto continua ad avere un punto di vantaggio. Iodice, una partita dai ritmi blandi, fine campionato, i tre punti sono arrivati, ma non bastano. Vabbè, ma quello noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo vincere la partita noi, l'abbiamo fatto, adesso manca l'ultima partita e ci giochiamo tutto domenica all'angolana e vediamo poi con gli altri risultati quello che succede. I play-off sono la cosa più probabile. Praticamente il paterno si ritrova a giocare allo stesso campionato dell'anno scorso. Sì, anche se noi domenica vinciamo, rispetto all'anno scorso abbiamo fatto 3 punti in più, quindi la scorsa abbiamo chiuso 70, quest'anno se vinciamo l'ultima 73, quindi significa che abbiamo fatto meglio dell'anno scorso, però purtroppo se finisce così arriviamo secondi come l'anno scorso. Dispiace perdere così, perché le occasioni le avete avute, le avete avute anche alla vastese ovviamente. Dove ha perso i punti il paterno? Dire dove ha perso i punti non lo so, è chiaro che durante l'anno ci sta che qualche partita la puoi sbagliare, sicuramente noi la partita con l'Acqua e Sapone ha determinato un po' la stagione, ma tutto rispetto per l'Acqua e Sapone, però noi l'abbiamo perso proprio la testa, quindi perdendo quella partita 1-0 fuori casa è chiaro che poi ci ha messo un po', ha levato un po' di certezza, anche se poi dopo ci siamo ripresi piano piano, anche se poi sicuramente qualche partita l'abbiamo vinta pure che non meritavamo, però purtroppo il calcio è questo, ci sta che durante l'anno puoi sgarare qualche partita. Ecco, ipotizziamo i play-off, dicevo che è la cosa più probabile, che cosa dovete fare per mantenere una buona condizione, considerato che si va incontro sempre più al caldo? Ma è chiaro che dobbiamo fare la stessa cosa che stiamo facendo adesso, dobbiamo allenare come stiamo facendo adesso, allenarci bene, è chiaro che andiamo incontro al caldo, non è facile dopo una stagione insomma intensa, che ci alleniamo tutti i giorni, però se il verdetto è questo, aspettiamo domenica innanzitutto, e poi cerchiamo di prepararci al meglio per i play-off. Di testa la squadra come sta? Ma noi stiamo bene, sia di testa sia fisicamente, chiaro che finisci il campionato, i play-off li fai dopo due settimane, è normale che qualcosa potrebbe succedere, però credo che alla fine i ragazzi sono intelligenti, quindi credo che arriviamo ai play-off, se sono play-off, sicuramente arriviamo in buone condizioni. E chiediamo con il presidente del paterno, Angelo Di Gregorio. Allora, una stagione più o meno come quella dell'anno scorso, mi diceva Iodice un attimo, se riuscirete a vincere la prossima, avrete fatto più punti dell'anno scorso, eppure non sono bastati, sembra quasi una maledizione. Eppure, come l'anno scorso, siamo rimasti a un punto per il momento, però c'è sempre l'ultima partita che se certi risultati nella parte bassa si sono realizzati, sappiamo che la Val di Sangro si deve giocare la partita contro la Vastese, quindi la partita dura pure per la Vastese, come sarà quella nostra con l'angolana, però abbiamo fatto pure tanto quest'anno, forse riusciremo a fare pure più punti dell'anno scorso, se domenica si vince, credo proprio di sì. C'è rammarico, però per aver perso stupidamente qualche punto di troppo per strada. Beh sì, se ne sono persi più di uno, ovviamente, però pure quello ci può stare, un campionato lunghissimo, le partite, tutte le squadre sono ben attrezzate, se le giocano tutte, è un campionato durissimo, quindi ci può stare che se fa qualche passo falso, come abbiamo fatto noi, la Vastese ne ha fatto mezzo di meno, e quindi ecco qua. Nel corso del campionato, in più di una circostanza, qualcuno ha detto, tutti tirano per la Vastese, qualche aiuto di troppo da parte delle circostanze, diciamo delle circostanze, e tu che cosa ne pensi? Ma io penso che è pure normale, cioè io questa cosa non la valuto negativamente, perché diciamo che tutto siamo, insomma, noi italiani siamo abituati così, cerchiamo di stare sempre con il carro del più forte, no? Così la penso, ma dentro tutto sommato, non è che fa tanta audience come la può fare la Vastese, sia a livello di stamba, che di televisione, oppure di, diciamo, di commenti degli addetti ai lavori, è chiaro, c'è una risonanza più grossa e noi la riconosciamo. Per la Val di Sangro, Federico Vecchiotti, si è scaldato in panchina per tanti minuti, poi l'allenatore alla fine ha deciso di non farlo entrare, allora una partita difficile per voi, ma lo sapevate, domenica prossima vi giocherete però quasi tutto il campionato, ecco, con che spirito andrete ad affrontare la prossima partita? Andiamo lì per gioccarci al massimo delle nostre potenzialità, noi siamo comunque una squadra valida, penso che ce la possiamo giocare con tutti, come abbiamo dimostrato anche con squadre di alta classifica, andremo lì per giocarcela, per vincere, come abbiamo sempre fatto, e per dare il nostro meglio. Siamo una squadra unita e stop. Siete consapevoli comunque di rischiare tutto un anno in soli 90 minuti? Ne siamo consapevoli, però questo è il calcio, dobbiamo dare il nostro meglio e tutto per tutto, quindi si giocherà su questi 90 minuti e speriamo che vada al meglio. Prima dei saluti, vi ricordiamo che questa edizione del TN2RAN la potrete rivedere interalmente sul nostro sito internet www.antennadv.it tra le altre cose sarà possibile rivedere i vecchi servizi che Antennadv ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie dell'attenzione e a risentirci alla prossima edizione. www.antennadv.it